Ciao a tutti ragazzi, ben donati sul mio canale. Allora, questo è un altro video in collaborazione con Francesco del canale Francesco Yves Rouchy. Prima di iniziare il video vi ricordo sempre che qui sotto nell'info box lascio il suo link, così potete andare a vedere anche il suo video e iscrivervi al suo canale. Lui anche se è molto giovane è veramente molto bravo nel presentare i prodotti, fa video spacchettamento sia Avon, Yves Rouchy, Stenom e anche di altre aziende. Allora, questa collaborazione è stata una sua idea e in pratica andremo a mostrare i bagnoschi umidi da Yves Rouchy che più ci piacciono. Allora, io ho questi qua a momento perché altri già li ho terminati. Andiamo a vedere subito quali sono quelli che io preferisco. in assoluto, come possiamo vedere, ho fatto la scorta di questi qui e sono di 200 ml e costano 2,70 euro. Allora, questo qua è molto concentrato. I piccolini, vi ricordo, sono sempre più concentrati rispetto a quelli là un po' più grande. Quello grande è di un formato di 400 ml e costa 3,95. Questo qua è vaniglia. e borbum, non so se lo pronuncio bene, è veramente molto bello. Andiamo ad aprire un attimo il tappino, vediamo se riesce a mettere a fuoco. E qua vediamo, ci sta questa sorta di membrana con una X al centro che fa uscire veramente poco prodotto, perché di questi bagnoschi umidi ne serve veramente poco per far subito schiuma. Questo mi è piaciuto tantissimo perché quando l'ho provato sembra di andare in una pasticceria, perché ha una profumazione tipo come pastiere, dolce, è veramente molto bella questa profumazione. Infatti, ne ho presi tre questa volta, ma già precedentemente ho fatto un ordine e ne avevo presi già altri. Da quando ne ho provato uno, ho iniziato a riprenderlo perché è veramente bellissimo. Fatemi sapere anche voi se è uno dei vostri preferiti. Poi ho provato anche questo, che non ho acquistato, ma ci tengo a dirvi che me lo ha mandato Francesco, il regalo. Come voi sapete, mi ha inserito lui nell'azienda della Yves Rocher. Allora, questo qua, è un bagno doccia, è un prodotto per l'igiene 2 in 1, adatto sia a corpo e capelli, con un profumo esotico. Allora, anche questo è molto bello, abbiamo estratti da fiori di tiarea, olio di noce di cocco, a base, lavante con gel aloe vera, provenienti dall'agricoltura biologica. Allora, è veramente molto bello. Allora, vi mostro anche qui il tappino, andiamo ad aprirlo insieme. Qua invece abbiamo questo foro un po' più grande, quindi non c'è quella membrana sotto, anche questo è in gel. E devo dire che questo qua ha una profumazione molto persistente, quindi la sentite anche dopo che vi siete lavati, tipo un'oretta. E' ideale per il ritorno dalla spiaggia o in qualsiasi momento dell'anno per sentirsi in vacanza. Pelle e capelli puliti, pelle deliziosamente profumata. Anche questo ne basta veramente poco e io vi consiglio entrambi. Questo a me piace perché mi piace questo odore di vaniglia, come se sarebbe, ecco, chi è napoletano conoscerà sicuramente l'odore della pastiera oppure di quei dolci che si fanno a Pasqua con tutti quegli aromi all'interno. E questo per il momento è diventato il mio preferito della Yves Rocher. In secondo posto, diciamo, da quando poi Francesco mi ha regalato questo, devo dire che stanno sullo stesso livello entrambi. Sono uno più bello dell'altro, quindi sto utilizzando un po' questo e spesso questi qua, perché questo me lo volevo riservare più per l'estate, perché anche lui mi aveva consigliato che è un prodotto più estivo. Questo lo sto usando invece tutti i giorni e ve lo consiglio. La verità, io vi consiglierei entrambi, però questo visto che in catalogo, insomma, attualmente non è disponibile. So che costa intorno ai 4,95. Vi volevo mostrare, anche se purtroppo in bottiglietta non ce l'ho, quali sono gli altri bagnoschiumi che ho provato. Allora, io ho provato anche questo qua, a melagrana, però non mi è piaciuto tanto, devo dire la verità. Questo a lampone, che pure è carino. E poi questo. Però devo dire che per me i vincitori, diciamo, sono questi qui, che vi ho mostrato. Fatemi sapere anche voi nei commenti qual è, secondo voi, quello là più bello, la profumazione che vi piace di più. Se preferite più questi qua mini, che sono più concentrati, oppure questi qua dal formato più grande. Che sono sempre in gel, però meno concentrati. Vi ricordo comunque che nell'album, questo qua 03, che parte dal 10 e finisce il 25 marzo 2020, abbiamo comunque la possibilità di acquistare due bagni doccia da 400 ml e avere il terzo in regalo. Quindi è una grande opportunità. Poi abbiamo, anche qui c'è scritto, vedete, rivoluziona il piacere della doccia, 1 più 1 uguale 3. Acquista due bagni doccia e ricevi il terzo in regalo. E però lo potete prendere a scelta. Vedete, lo potete prendere pure, per esempio, o diversi, oppure della stessa profumazione, diciamo, come preferite. Anche qui ci sono questi altri bagno doccia. Semmai la prossima volta prenderò questo qua direttamente grande, o magari farò, o la scorta, ne prenderò tre di questi qua a vaniglia, magari quelli grandi. Non lasciatevi sfuggire, è questa offerta di averne tre. E ne pagate solo due. Lo potete anche acquistare per fare un regalo, che sinceramente sono veramente molto belli e ve li consiglio. Quindi leggiamo qua. Inserire due codici neri dei bagni docci 400 ml, che preferite da pagina 95 a 99. 2. Ottenere il terzo bagno doccia 400 ml, il regalo. Inserisci il codice L, rosso sottolineato, da pagina 95 a pagina 99. Quindi ricordiamo sempre che dobbiamo prendere prima due codici neri, e poi per avere il terzo in omaggio dobbiamo inserire il codice rosso. Anche le mie clienti sta piacendo. Devo dire che sono rimasta molto contenta di essere entrata in questa azienda. Per chiunque vuole fare acquisti nella ibroché, potete acquistarli stesso voi con uno sconto del 15%. Se volete sapere come entrare in questa azienda, contattatemi qui sotto nei commenti, e io vi dirò subito come fare. Che sinceramente vi conviene acquistarli così direttamente voi. Vi arrivano direttamente a casa, e magari potete iniziare una nuova carriera, un'opportunità per far entrare un po' di guadagno in più al mese nelle vostre case. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi ricordo di andare a vedere anche il canale di Francesco, e noi come sempre ci rivediamo in un prossimo video.